Le cucciole del 2005 hanno offerto uno spettacolo da grandi. 8 atlete in poco più di un secondo e il podio in 9 centesimi. Il miglior tempo è di Ilaria Compagnoni, 1'04 e 44, Rakeski Team, pettorale numero 3 e seconda concorrente in partenza. La battaglia per salire sul podio è accesa. Si piazza al secondo posto Ilaria Di Sabatino, pettorale numero 30, EUR, associazione sportiva dilettantistica, a soli 3 centesimi di distacco dalla sua omonima. Terza è Matilde Casse, atleta del San Sicario Cesano. Indossa il pettorale numero 38 e si piazza a 4 centesimi dalla seconda. Sono molto interessanti anche i tempi della quarta, quinta e sesta classificata. Rispettivamente Sofia Funaro, pettorale 19, Ciclub 21 con 1'04 e 71, Giulia Romele, pettorale 17, Skitim Valpalotto 1'04 e 78 e Vittoria Lerda, pettorale 52, Ciclub Pragelato 1'04 e 97. Nella categoria maschile, Vittorio De Pieri, pettorale 95, Ciclub 18, vince con un secondo e 19 centesimi di distacco sul piemontese Matteo Hucmi, pettorale numero 96, San Sicario Cesano. Terzo Edoardo Baldo, pettorale numero 121, Ciclub Cortina con un tempo di 1'04 e 62. Sous-titrage Société Radio-Canada